siamo a 900 metri cinque chilometri da Grissolo e qua è proprio già la strada di montagna ancora asfaltato ovviamente fino a Pian del Re c'è una strada asfaltata però è bella in piedi comunque è bellissimo veramente fa freddo ma mi mantiene in temperatura nonostante l'umidità che mi dava il 77% a Paisana quindi qua è ancora più alto sta sudando come un uomo fa freddo e sude ok dai guarda rinco ho finito il falso piano quindi qua è per estirarmi 1.139 9,78% su un chilometro e mezzo al Pian del Re mancano 10 chilometri e 9 è dura se non ho il bivio di Ostana la Francesca non la vedo e sta accusando la mossa di ieri di rinunciare di lasciare tutti i bagagli al campiglio di Paisana è stata una bella mossa anche perché già si fa fatica così se figurati se portavamo i bagagli la Francesca sicuramente non la va tu invece non è nulla comunque ragazzi siamo a Stara con i porti più evidenti alla fine e allora perciò si fa fatica così si fa fatica di metterlo quindi lo facciamo prima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra anche abbastanza riposata. Una rosa. Una rosa fresca del deserto. Peccato che siamo in montagna. Esatto. Quasi quasi lungo di fuoco.